Ciao collega, le regole del perfetto marketing moderno dicono che quando la tua community supera un numero importante di partecipanti, devi fare ingraziamenti. Il gruppo WMI di Facebook ha superato le 2000 persone e non me ne sono manco accorto. Sono proprio un dilettante, ti chiedo scusa, ma come sai il mio lavoro è vendere case e questa cosa la faccio soprattutto per la soddisfazione di vedere che il mio progetto sta dando tanti tanti vantaggi a te che ne fai parte. Ah, non so se già ne fai parte davvero o ci stai ancora pensando, ma poco importa. So che quando capirai che i video fanno la differenza per acquisire e vendere case, allora ti sentirò e sarai dei nostri. Come per esempio Michele che con suo fratello parteciperà al prossimo Power Gateway del 12 maggio. Michele è stato invitato da Giuseppe, suo mentore, amico ed ex socio. Lavorano a pochi chilometri uno dall'altro, quindi ti verrà naturale chiederti, ma se ho scoperto un sistema che mi fa vendere e acquisire case molto meglio di prima, perché lo rendo disponibile ad altri che mi possano così fare concorrenza? Giuseppe è molto avanti e non ha nessun problema a far sì che Michele inizi il suo percorso nel video marketing immobiliare. Infatti sa che lo scopo finale è quello di creare collaborazione, una rete di agenzie completamente libera da vincoli, che non siano quelli di etica, correttezza e trasparenza, che dovrebbero essere normali in questo settore e a volte non lo sono. Prova a pensare a non avere più problemi di acquisizione. Prova a pensare di poter condividere il tuo parco immobili con chi, senza se e senza ma, fa altrettanto con te. Prova a pensare a poter vendere case in tutta Italia con la sicurezza di avere a che fare con chi la pensa come te e fa il tuo stesso marketing. È fantascienza? Sì, lo è, ma sta succedendo. Pian piano sempre più agenzie selezionate e referenziate si avvicinano a progetto nonostante gli immancabili detrattori o i copioni dell'ultima ora che stanno cercando di emulare. Ma su una cosa non è possibile fare copia in colla, la fiducia. E tutta questa avventura si basa sulla fiducia che ho ricevuto da tanti colleghi attirati dal fatto strano che un loro collega si prendesse di rivelare loro una strategia così vincente, praticamente gratis. Poi però hanno toccato con mano che questa è fantascienza ma non una favola. Io esisto e ricordo bene all'inizio qualcuno che si è messo in macchina e addirittura è venuto fino a Cesena. A vedere se Vitali Immobiliari c'era, era aperta e se era così grande e se io stavo nel mio ufficio. E tutti hanno ricevuto il mio numero di telefono. Prova a contattare uno dei tanti guru della rete se sei capace. Ti risponde la segreteria digitale. Infine il fatto che io stesso nelle mie agenzie facessi video marketing immobiliare e ottenessi risultati eccellenti ha eroso la barriera della diffidenza di alcuni che hanno iniziato e hanno sperimentato nella propria agenzia. Qualcuno l'abbiamo perso per strada, è normale, fagocitato dal tran tran quotidiano. Qualcuno si fa vivo dopo mesi e mesi e mi trova sempre pronto ad aiutarlo. Altri continueranno a dare soldi ai portali finché non sarà chiaro, lampante, che sono un sistema superato, sempre meno utile se non dannoso per l'agenzia e poco piacevole per chi deve cercare casa. Non è un mio problema. Io ci sono per te che mi stai ascoltando e per i miei collaboratori. Il resto del mondo non ha bisogno di me per girare. Ti ringrazio di cuore di essere qui.